E non ho avuto occasione, sai com'è? Non sarei troppo a volte un errore E non mi servono tante parole Nei tuoi occhi ogni cosa diventa semplice E quando non mi vedi Ti guardo ridere E quando non mi vedi Come fa? Tu sei tutto per una ragione E la ragione magari sei tu Non ho niente da nascorrere E tu Tu sei tutto per una ragione E la ragione magari sei tu Non ho niente da promettere Ma da scommettere cose Sono sempre speciali io e te Come è perfetto il nostro figlio Così come è Posso stare a guardarti per ore E non mi posso sentire l'odore Nei tuoi occhi ogni cosa sta per succedere E quando non mi vedi Ti guardo vivere E quando non mi vedi Se c'è tutto per una ragione E la ragione magari sei tu Non ho niente da nascorrere E tu Se c'è tutto per una ragione E la ragione magari sei tu Non ho niente da promettere Promettere Le strade che passa La nostra risata La pioggia che cade La sabbia bagnata E batte la musica Fino al mattino Se ti tengo più vicino Soltanto stanotte Se c'è tutto per tutta la vita Adesso si corre Non vedo salita Oh 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 Da scommettere con te Oh 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 Da scommettere con te OIF 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 Che rotta di botte Cosa ho fatto? Ah Ce l'hai con me? Cosa ho fatto? Ma, sempre rotta Dai fammi... Alietami con qualche accordo Mi vuoi bene? Ah, poco, massato bene E dillo che mi vuoi bene Pelato no Ok raga, siamo purtroppo arrivati alla fine del concerto, ci siamo divertiti, ciao, che bella che sei, ciao, ok ragazzi, allora volevo dire una cosina se mi date un secondo, allora stasera ci siamo divertiti tanto, è stato un concerto bellissimo, ci tenevo solo a fare un pensiero prima di suonare l'ultima canzone, volevo fare un pensiero insieme a Fede perché a 20 minuti da qua qualche mese fa è successa una cosa veramente brutta e volevo fare un pensiero alle persone che sono state coinvolte nella tragedia di Corinaldo, anche a 20 minuti da qua, perché la musica è una cosa, insomma a noi ci ha cambiato la vita, è una cosa veramente che unisce le persone, ed è importante che i locali come questo, che ringraziamo che stasera ha organizzato tutto benissimo, ci tengano alla, ok, può succedere, però dopo ne parleremo, ok, con quei locali che organizzano bene i concerti e fare in modo di pensare alla sicurezza delle persone perché sono la cosa più importante e permettere alle persone di divertirsi, quindi un ringraziamento a questo locale, un ringraziamento a tutti quelli che fanno bene il loro lavoro, perché siamo qui per divertirci e certe tragedie non devono succedere. Che siano concerti, che sia qualsiasi tipo di evento, che sia una serata in discoteca, che sia un posto che mette a dura prova comunque la sicurezza delle persone, è importante riuscire a garantire la tutela e lavorare nel modo giusto e non approfittarsene, quindi grazie a chi lo fa bene, bisogna il berletarguire a quelli che lo fanno male, ma. Redarguire, bisogna il berletarguire, bisogna il berletarguire, bisogna il berletarguire a tutti. Grazie.